Da quando ho cominciato la mia attività imprenditoriale sono sempre stata circondata da un clima o meglio ho sempre respirato un clima molto fissato sulla sulla crescita io direi quasi ossessionato dalla crescita a volte graduale ma spesso e volentieri esponenziale e devo dire che all'inizio era uno stimolo soprattutto perché di business non sapevo nulla per cui essere circondata da tutte queste persone che correvano da tutte le parti con un nuovo obiettivo con un nuovo traguardo era eccitante davvero ti dava un'adrenalina forte poi però è diventato sempre più stancante e la sensazione una metafora che ormai uso spesso era diventata quella di trovarmi su un treno che andava a tutta velocità e da qui scendere era diventato praticamente impossibile quindi l'unica scelta di tutti diventava quella di accelerare ancora un po' perché sia mai che magari qualcun altro qualche altro treno potesse sorpassarci in corsa. Tra l'altro ragazzi ho qui con me un libro che si chiama Small Giants Piccoli Giganti che è stato il primo qualche anno fa ad introdurmi a un'idea che adesso per fortuna e vedremo poi perché dico per fortuna comincia a diffondersi sempre di più una nuova modalità ecco di fare azienda che è molto più vicina devo dire alla mia personale definizione di successo che non preclude una crescita finanziaria imprenditoriale ma non la rende un'ossessione che a tutti i costi va raggiunta anche a sacrificio di tutta una serie di valori e di un equilibrio anche psicofisico che di cui abbiamo bisogno come esseri umani e quindi secondo me è veramente un tema che è importante affrontare ed è per questo che insieme a Sara Roversi abbiamo deciso di approfondire questo tema in questa puntata. Ciao Sara e grazie per essere qui con noi oggi. Ciao ciao buongiorno a tutti. Allora Sara quello che mi ha colpito molto è proprio il fatto che nel vostro modus operandi questo principio di puntare ad essere adesso utilizzo le parole di questo libro che mi piacciono molto puntare ad essere i migliori invece che i più grandi è uno dei pilastri della vostra modalità operativa a livello aziendale. La cosa che mi è piaciuta molto è che questo libro ne sono seguiti molti altri ormai sempre più menti imprenditoriali abbracciano questo principio e però è ancora molto controverso. Allora ti chiedo Sara intanto di aiutarci a capire perché diventare grandi a tutti i costi non è sempre la risposta e soprattutto quando quando non è la risposta. Credo che sia un concetto molto soggettivo ovvero ad oggi secondo me abbiamo la fortuna di assistere a dei cambiamenti epocali che stanno richiedendo anche al mondo del business di creare dei nuovi kpi che non sono solo dati dai numeri del fatturato ma oggi siamo in un momento in cui ci sono aziende estremamente purpose driven dove la missione il motivo per cui si sta facendo quella determinata cosa l'impatto generato diventa veramente l'elemento di qualificazione il fatto di dire cosa sto facendo di buono quanto buono sto facendo e quindi ovviamente il fatto del diventare grandi anche questo concetto del grande acquisisce un valore diverso dove quindi non è una questione di grandezza dimensionale ma è una questione secondo me molto più legata al tema dei valori ovviamente noi per dire siamo siamo minuscoli siamo niente rispetto alle grandi aziende che ci circondano però magari le persone pensano che future food institute sia un istituto estremamente importante artissonante quant'altro perché perché magari ci vedono collaborare con la fao con le nazioni unite vedere progetti in cui magari riusciamo a lavorare con migliaia di bambini però magari siamo un team piccolissimo e la nostra grandezza la misuriamo non nel fatturato che è necessario perché dobbiamo pagare gli stipendi di chi ci lavora e per continuare a fare bene in modo esponenziale ovviamente dobbiamo rendere sostenibile quello che noi stiamo creando ma siamo in una situazione in cui il valore la dimensione è calcolata diciamo su altri parametri questo è molto bello tra l'altro mi viene proprio in mente l'idea di creare un indice di alto impatto che potrebbe misurare l'impatto che la grandezza delle aziende intesa proprio come dicevi tu una grandezza che non ha che vedere soltanto col fatturato ma con l'impatto e nemmeno magari col numero di persone che raggiungi perché poi quello facilmente rientra poi nel numero di clienti che hai ma nell'impatto che hai sulle persone che alla fine raggiungi ti chiedo come unire i due i due principi allora a volte ho la sensazione quindi il principio della crescita che comunque deve esserci in un'azienda sana e il principio di dire ok resto fedele ai miei valori te lo chiedo perché noto che a volte c'è una tendenza da parte delle piccole aziende o dei piccoli imprenditori di nascondersi dietro questo principio perché non si riesce ad ottenere la crescita che si spera quindi dentro di noi siamo lì che speriamo in una crescita finanziaria ed economica però ci nascondiamo dietro il fatto che comunque abbiamo una mission che è sufficiente a farci andare avanti cosa che non può essere allo stesso tempo poi c'è l'altro estremo il fatto di cominciare con una mission conoscere una certa crescita farsi prendere la mano e poi dimenticarsi perché eravamo partiti quello che tu dici è assolutamente vero e posso ripercorrere alcune tappe della nostra esperienza imprenditoriale dove ci siamo resi conto solo recentemente quanto sia fondamentale avere la nostra mappa dei valori come vera guida la mission la vision e quant'altro cambiano ma i valori sono quelli che devono rimanere sempre coerenti e ripercorrendo la nostra storia andando indietro guardando tutto il percorso fatto ci siamo resi conto che tutti gli errori fatti sono stati fatti in situazioni in cui avevamo perso di vista i valori che ci contraddistinguono e siamo scesi dai compromessi ci siamo fatti andare bene dei partner che non erano il partner giusto ci siamo fatti andare bene delle situazioni che non erano coerenti con i valori che noi sentiamo nella nostra pancia perché è una questione di pancia di cuore non solo di testa perché a livello razionale dice business plan crescita investitore vai fai cresciamo ma no perché quando non ci sono questi allineamenti fondamentali lì purtroppo non c'è non c'è proprio l'integrazione di quella che è il percorso che si vuole fare insieme quindi quello secondo me è l'elemento è l'elemento chiave e mi ci sono trovata in prima persona e ho ancora le cicatrici forse di quelle scelte fatte e oggi veramente la tematica di come abbiamo scritto i nostri core values e tutto il percorso che abbiamo fatto anche con questa persona che ci affianca e che si occupa di talent development non è l'hr si occupa di talent development e chi all'interno della nostra struttura si occupa di questo tema ha preso i nostri core values e ha fatto dei core values la mappa per guidare tutto il team per selezionare il team per selezionare i partner per selezionare i collaboratori in modo tale che veramente quello diventi un po il nostro il nostro codice il nostro codice di condotta e sappiamo che chi è dentro già da per scontate quelle cose perché fanno parte del nostro modo di vivere nostra relazione con l'ambiente la nostra relazione con l'altro la nostra unicità il fatto di essere maker per noi è per dire uno dei valori noi ci sporchiamo le mani ci rimbocchiamo le mani che non ci aspettiamo che arrivi il fighettino nella sala e che lascia noi spostare il tavolo diciamo questo è l'approccio e quindi abbiamo identificato questi sei valori che ci guidano in tutto quello che è la nostra relazione con l'ecosistema che ci circonda quindi possiamo dire che non è che questo modalità di questo chiamiamolo principio dei piccoli giganti mi piace perché riassume bene il concetto non è un invito a non crescere assolutamente no assolutamente no e questa è una cosa molto interessante perché oggi vediamo tanti piccoli fare cose grandi e questa è una cosa bellissima secondo me per come sta cambiando la nostra epoca siamo in un contesto in cui dobbiamo diventare tutti dei lifelong learner ogni giorno impariamo qualcosa e quindi ci dobbiamo mettere con l'atteggiamento dell'alunno in qualsiasi situazione del dai g che è sempre un maestro che ti sta insegnando qualcosa dobbiamo essere in una condizione in cui la cooperazione è la parola chiave siamo in un momento in cui la ownership non vale più l'importante è avere accesso alle cose avere accesso alla conoscenza avere accesso alla logistica alle strutture avere accesso è diventata la parola chiave per avere accesso io prendo ma devo anche dare e tutto questo ovviamente fa sì che lo spirito di collaborazione sia fondamentale se vuoi andare veloce vai solo ma se vuoi andare lontano baci insieme ad altri baci insieme ad altri che abbiano la tua visione quindi questo è diventato un po' la nostra il nostro modus operandi ci piace molto collaborare abbiamo tantissimi partner che diventano partner famiglia partner che con noi magari hanno obiettivi grandi noi siamo niente ma il fatto di essere il partner della FAO sull'education o lavorare con le Nazioni Unite che è la cosa più grande che c'è ci fa sentire un po' grandi anche noi anche se siamo molto piccoli ma perché la missione l'ambizione è enorme e perché comunque state contribuendo a un impatto che poi ha un effetto farfalla nel senso che collabori con delle realtà che poi possono portare quell'impatto a livelli più più ampi in termini grafici o di volume hai preso l'effetto farfalla che secondo me è assolutamente simbolico ma è esattamente quello che sta succedendo perché quando la missione magari è ispirare una grande impresa io se cambio il modo in cui produco il cibo che do ai miei consumatori purtroppo faccio un impatto molto piccolo faccio del mio meglio ma comunque è piccolo il fatto di riuscire a influenzare un grande leader di impresa che se cambia il modo con cui acquista la sua materia prima con cui distribuisce il proprio prodotto con cui crea nuovi packaging sostenibili genera un impatto mondiale su milioni di persone quello che facciamo è gigante ne hai cambiato uno e ha impattato su milioni di vite quindi questa è la cosa che ci spinge tutti i giorni ti faccio una domanda a questo proposito che esce un po dal seminato ma forse non troppo intanto mi piace moltissimo come sottolineato l'importanza della collaborazione di come al giorno d'oggi soprattutto sia imprescindibile ammesso che ci sia stato un periodo dove non lo era però magari ci sono stati soprattutto nel digital ma forse non solo dei momenti storici dove forse era possibile bastava avere insomma un budget di un certo tipo puramente finanziario per poter andare avanti superare tutti quanti no poi si sono verificate tutta una serie di dinamiche per cui il mercato diventa sempre più saturo sempre più concorrenziale e uno può avere tutto il budget di questo mondo ma non riuscire comunque a far scalare a far crescere un'impresa e sono situazioni che ho visto e che devo dire mi hanno sempre un po' sorpreso perché c'è sempre un po' questo retaggio vecchio di pensare a se ho il budget posso permettermi no le persone nel team posso come se questo budget fosse la chiave di tutto quando in realtà e questo è un po' il paradigm shift che mi piace molto di questo inizio episodio abbiamo detto i valori sono la chiave di tutto tra cui il valore della collaborazione allora ti chiedo per riuscire a collaborare tu hai detto noi siamo così piccoli però collaboriamo con dei giganti per riuscire a collaborare con questi giganti basta la mission bastano i valori o c'è qualcos'altro che cosa cosa vi ha portato a riuscire a creare questi link guarda forse è un approccio che contraddistingue anche un po' il territorio dal quale dal quale veniamo a differenza di altri c'è sempre piaciuto cercare di creare dei prototipi non ti vendo una cosa su carta non ti dico che ti porterò sulla luna vado sulla luna dalla luna ti saluto e ti dico guarda che si può fare vieni con me sulla luna e quindi forse quello che ci ha contraddistinto che ci ha permesso di fare queste cose è molto spesso buttare il cuore oltre lo staccolo e testare provare sul campo quello che stiamo dicendo e quindi tutte le cose che noi abbiamo fatto fino ad oggi sono sempre state caratterizzate da un test mi sono fatta male io per prima e ti dico che questo è la missione abbiamo un laboratorio il nostro living lab che è un posto dove prototipiamo costantemente testiamo facciamo test coinvolgiamo la community ma facciamo le cose non ti dico sarà ti dico sta succedendo poi dopo te lo te lo te lo racconto magari diventerà una cosa grande questa secondo me è una cosa che ci ha contraddistinto un po' anche nei confronti di tanti altri player come tu ben sai si riconvale i progetti le start up si picciano e magari si raggiungono anche obiettivi finanziariamente molto più alti di quelli che possiamo ottenere noi anzi succede tutti i giorni che noi diciamo ma caspita questa cosa su carta ha raccolto cento volte tanto quello che potrei raccogliere io che l'ho già fatto c'ho investito c'è un vestito di mio però questo fa capire anche quello che è l'approccio pragmatico dell'arte del fare che un po' contraddistingue questo territorio e quindi questo è stato un po' la nostra il nostro modo di operare la cosa che ci ha permesso di arrivare a parlare con queste persone e non dire siamo un centro pubblicheremo faremo abbiamo lavorato con x questi sono gli obiettivi raggiunti questi sono i kpi che ci siamo dati e cercare di misurare quello che noi quello che noi facciamo e quindi insomma diciamo che così siamo riusciti a dare concretezza a tutte quelle che sono le parole che diciamo perché sai vuoi cambiare il mondo sei molto idealista chissà dove vuoi andare prima gli hamburgeri sushi eri nel food e facevi quelle cose lì che sono molto tangibili oggi cosa vuoi fare ecco in realtà è far vedere che le cose poi succedono che le aziende cambiano e che gli obiettivi si raggiungono è veramente una soddisfazione incredibile perché è diventato anche un modo per rendere scalabile quello che ci dicevamo all'inizio io non sono grande perché sono grande io sono grande perché vedo diventare grandi gli altri grazie all'ispirazione che magari prendono da noi e quindi la mia missione cresce costantemente quando vedo che qualcuno perché prende un'ispirazione da un percorso fatto con noi cambia e genera un impatto grande quella è la nostra più grande gioia ci fai un esempio se possibile concreto di un di un prototipo di un test che poi avete avete testato misurato e poi avete presentato assolutamente ce ne succedono quotidianamente parto da uno molto semplice che ci succede tanto in tanti contesti la valorizzazione degli scarti quanto sprechiamo abbiamo fatto tantissimi progetti sulla valorizzazione delle banane che diventano nere la gente le butta via cosa puoi fare da quelle banane le puoi trasformare in birra in vino in aceto in marmellata in pelle di banana pensa all'azienda leader al mondo che produce banane e che butta via quintali di banane pensa il cambiamento che fa e quanto questo può cambiare il suo pnl ma anche in realtà l'impatto che genera questo è un esempio minuscolo o dimensione del centro commerciale bologna un centro commerciale dove si sono resi conto che il più grande spreco che hanno in ambito caffetteria e ristorazione sono fondi di caffè e arance mettendo insieme tre partner assieme ad impronta etica co-op i gd che gestisce centri commerciali e cams abbiamo creato un progetto che si chiama waste to value questi scarti sono diventati un oggetto una capsula che contiene un concime e una piantina e quindi tutti gli scarti di caffè e arance diventeranno un piccolo oggetto che viene regalato a chi transita all'interno del centro commerciale potrà regalare appunto qualcosa che è generato da uno scarto te ne potrei raccontare milioni o scuole lavoriamo tantissimo con steven ritz che è l'inventore di green bronx machine che proprio ormai è diventato parte della nostra famiglia lui ha avuto un'esperienza incredibile partito dal bronx mezzo del food desert uno non ci pensa perché a mezz'ora dal centro di manata ma in realtà sti bambini non vedono cibo fresco da lì a 20 miglia nella scuola con il più alto tasso di criminalità dei genitori il più alto tasso di abbandono scolastico tipo l'80 per cento quasi bene lui è partito con questa missione più di dieci anni fa oggi i bambini portano l'insalata a casa i genitori partecipano ha risolto il problema dell'abbandono scolastico per più del 45 per cento dei ragazzi e ha completamente rigenerato la comunità bene oggi steven ritz lavora in più di 40 mila scuole portato il suo modello in tutto il mondo e ha creato un impatto a catena incredibile portando cosa portando il cibo nelle scuole connettendo i bambini con il cibo che potevano curare crescere e portare a casa e partendo dal cibo ha curato un'intera comunità questi sono solamente piccolissimi esempi di un'infinità di quelli che noi chiamiamo food shapers e questi ne abbiamo incontrati ormai centinaia abbiamo raccontato le loro storie abbiamo i documentari dei food shaper solo nell'ultima missione 160 ne abbiamo intervistati visitati siamo andati nelle loro case nei loro laboratori ognuna di queste storie ti può cambiare la vita. Ti chiedo Sara da un punto di vista di crescita indiretta cioè nel momento in cui io creo un progetto ad altissimo impatto magari comincio nel mio piccolo piano piano comincio ad avere trazione comincio a diventare sempre più grande perché attiro anche dei partner di un certo rilievo di un certo tipo quindi la crescita diciamo comincia ad essere quasi una conseguenza naturale crescita sia in termini finanziari che in termini di impatto. C'è un momento in cui dovrei frenarmi c'è una situazione quali vedi essere i rischi di dire vado avanti continuo? Te lo chiedo perché mi trovo spesso in situazioni a parlare con persone che ammettono di essersi spinte troppo in là cioè di aver permesso a questa crescita poi di portarla ad una situazione di non ritorno come dicevamo prima ma senza nemmeno credo che se ne accorgessero proprio perché l'impatto che volevano avere era un impatto molto più grande di quello che magari stavano avendo in quel momento ci sono riusciti e quindi non avevano neanche in mente la crescita finanziaria che però poi è arrivata e lì cosa fai? Dove investi queste risorse se non in un'ulteriore crescita? Guarda quello che dici lo capisco molto bene perché all'interno della nostra esperienza invece impreditoriale noi ci siamo trovati esattamente in questa situazione crei un food concept meraviglioso con dei principi un fortissimo legame sul tema della sostenibilità una missione molto chiara fai un primo punto vendita che va benissimo è super integro assolutamente perfettamente in linea con la missione iniziale due tre quattro arrivi a 10 arrivi a 13 bene è il momento in cui la gente comincia a dirti sei interessante sei accattivante devi scalare facciamo entrare l'investitore diventa franchising noi l'abbiamo già provata sulla nostra pelle con un primo progetto e ci siamo fatti molto male perché in due anni il progetto ha cambiato pelle non era più nostro convinti del fatto che crescere scalare diventare franchising andare all'estero sarebbe diventata la soluzione perché non eravamo coerenti con quelli che erano i valori iniziali quindi tornando al discorso di prima i valori quelli dobbiamo tenerli ben chiari abbiamo resi conto che quello è la vera guida e siamo scesi al compromesso abbiamo fatto entrare delle persone e dei mondi che non erano allineati nei valori e quello è stato il più grande errore oggi abbiamo un progetto è arrivato a quel momento lì in un momento in cui appunto il mercato ti dice diventa grande diventa grande diventa grande diventa grande ma a noi serve diventare grande queste sono proprio le domande che ci stiamo facendo in questi giorni perché è una cosa che è ricorrente e capiterà costantemente nella vita a maggior ragione quando le cose vanno bene che da fuori sai è un po' come il paese dei balocchi no vieni vieni vedi che ci sono un sacco di luci ma è quello che ci renderà felici perché poi il concetto è questo dipende se nei tuoi valori la dimensione della felicità è rappresentata da un coefficiente economico o se è rappresentata da altro purtroppo nel mio non c'è quella dimensione e quindi no mi rendo conto dico purtroppo perché in realtà hai bisogno che ci sia dipende in che dimensione però è una cosa importante che ci sia la sostenibilità economica però ecco non essendo un driver alla fine la mia ricerca personale la ricerca della felicità e quello è che cos'è che mi rende felice mi rende felice entrare nel mio punto 20 da vedere che il menu è coerente che se diciamo zero plastica è zero plastica e che se diciamo che questa è la direzione e che il prodotto che ho scritto sul menu è quello che abbiamo scelto per questi motivi perché quel produttore ci interessa e non perché è arrivato il grande che ci ha fatto l'offerta migliore quindi abbiamo cambiato quella mozzarella che viene da un posto perché sai no se siamo coerenti siamo coerenti e allora la mia felicità è vedere l'unicità e l'integrità del progetto che però magari è anche quello che permette la stabilità economica e la crescita brava e quindi è un mal di testa quotidiano per fortuna io sono su tutta la parte che si dedica di più a tutto il resto del nostro ecosistema quindi io sono sulla parte di Future Food Institute e i nostri KPIs appunto sono molto più orientati a tutto questo mondo dell'impatto esponenziale ma ci rendiamo conto di quanto sia importante che tutto il progetto sia integro e quindi lottiamo tutti i giorni per riuscire a mantenere questo equilibrio che è un equilibrio magico che dobbiamo mantenere quindi non è facile perché tutti da fuori pensano ah figurati è semplice ah siete sui giornali ma non è facile per niente perché anche noi nonostante la nostra che la nostra missione sia molto chiara e siamo molto convinti ci troviamo tutti i giorni a fare i conti a fare i conti con l'azienda che cresce le sfide le opportunità capire se è veramente un'opportunità o se invece dietro a quell'opportunità si nasconde qualcosa che non è il futuro che vogliamo e quindi è il bello è il bello di questo di questo lavoro può secondo te aiutare il fatto di ricordarci che quando cresciamo a piccoli passi non solo riusciamo a farlo in maniera un pochino più mindful quindi più coerente con i nostri valori perché è la velocità che ci impedisce di prendere le distanze e capire che cosa stiamo facendo e perché perché no diciamo sia tutto quello che luccica può aiutarci ricordare che quando andiamo piano o meglio quando saliamo piano usiamo la metafora della salita no perché comunque una salita è faticosa a prescindere dalla velocità cadere fa anche meno male visto che voi tra l'altro siete caduti e vi siete fatti un po' di botte un po' di ammaccamenti ci sono stati. Sì assolutamente anche se poi ci sono anche dei casi in cui questa crescita è avvenuta e l'imprenditore ha saputo gestirla vedi i grandi giganti della Silicon Valley penso che la chiave sia nel sapersi circondare delle persone giuste e saper identificare chi sono i tuoi compagni di viaggio. Ma secondo te i grandi giganti della Silicon Valley sono davvero felici? Questa è una domanda che a guardarli a volte mi faccio. Guarda che non lo so, non lo so, non lo so. Forse sì, forse dipende veramente dai valori. Sì dai tuoi valori, assolutamente. Se quello che hanno creato li rende felici io non dormirei la notte se fossi alcuno di loro. Ecco, che poi è una delle conseguenze poi dello stress, dallo stress. Sì perché secondo me molti di loro non si rendono conto dell'impatto che hanno generato nella vita delle persone realmente e quindi. E questo mi ricorda un'altra cosa che credo sia importante dire. Ci sono dei modelli soprattutto nel mondo americano ma che poi arrivano anche in quello italiano tramite social media che propongono questa continuo hustling, no? Hashtag hustle che è questa, non riesco neanche a tradurlo con una parola che renda, però è l'idea del continuo darsi da fare come se non ci fosse un domani senza mai fermarsi. È agosto hustling, è notte hustling, cioè quando tutti dormono tu devi andare avanti, che è un principio che a me aveva quasi esaurito a un certo punto. Io facevo gli after, queste nottate passate a portare avanti i progetti perché così erano delle sorte di hackathon per un tag team, per cui finivi, ma eravamo un team che non aveva bisogno di stare sveglio la notte, cioè era veramente una scelta di principio e c'erano persone che riuscivano tranquillamente a farlo, poi le conseguenze nella salute a lungo termine io queste non le so perché sono passati anni, ma a me sono bastati un paio di tentativi, a parte che non ci riuscivo perché a un certo punto dovevo andare a dormire, ma il giorno dopo ero completamente inutile. Quindi riuscire forse a capire che quel modello è un modello di cui dobbiamo prendere sicuramente la parte buona, il fatto di darci da fare, di non arrenderci, di essere pragmatici nel nostro approccio al successo, metodici senza che però diventi una cosa che dobbiamo imporre al nostro modo di vivere. Sai, questo secondo me va a toccare altri due valori, il quanto e il come, nel senso che ci sono molte persone che sono orientate alla quantità e quindi non importa la qualità di quello che sto facendo in quelle ore di notte in cui dico sì ho lavorato tutta la notte, ma conta il far vedere che io ci sono e che mi sto spaccando la schiena per farlo. Noi almeno stiamo cercando di andare verso una dimensione che porta molto di più verso l'equilibrio, poi il fatto che anch'io lavori giorni e notte ma perché mi piace, quindi quando mi dicono poverina lavori tanto, no non poverina, io lo faccio perché per me è una gioia fare quello che faccio, quindi questo è un altro discorso. Però il fatto del ragionare sul valore, sul come lo sto facendo e che cosa mi porta e qual è veramente la qualità di quell'ora di lavoro e che cosa sto deliberando in quell'ora di lavoro secondo me è fondamentale. Ci sono tante culture che sono così, se pensi alla cultura giapponese, la cultura giapponese è molto orientata a quella dimensione, noi lavoriamo tantissimo con il Giappone e ancora c'è molto questo concetto, invece magari ti rendi conto che un'ora ben spesa con la testa sul progetto in cui sei assolutamente in connessione magari ti rende più che una settimana di ore davanti allo schermo. Assolutamente, a questo proposito in un mondo dove il confronto è all'ordine del giorno, non solo tra, non parliamo di imprese della Silicon Valley appunto che si fanno le scarpe ma piccoli imprenditori digitali o meno che si trovano magari sul web e confrontano l'inizio del loro percorso alla metà di quello di qualcun altro oppure confrontano il proprio primo mese di vita ai primi dieci anni di qualcun altro che vedono su Instagram o che ammesso poi non concesso che quello che viene condiviso sia sempre solo la verità colata, il confronto è inevitabile per cui come superiamo secondo te la paura di non sentirci all'altezza quando sappiamo dentro di noi che vogliamo restare piccoli, che non vogliamo scendere a compromessi però è come se tutto intorno ci dicesse cosa stai facendo, stai buttando al vento un'opportunità. Sai noi, almeno e questo riprende uno dei, il primo dei nostri core values è proprio il trovare l'unicità, a me è sempre stata una cosa che ho sempre avuto qua, se c'è qualcuno che per assurdo ci copia cambio io ma preferisco avere un qualcosa che mi caratterizza e che mi rende unico il fatto che tu lavori con me perché hai qualcosa che nessun altro ti può dare è sempre stato uno degli elementi che ci ha un po' guidato, quando parliamo ormai di più di 15 anni fa lavoravamo con le olimpiadi e lavorando con le olimpiadi ti rendi conto noi eravamo vent'anni, eravamo gasati come non mai perché avevano scelto noi e pensavamo di essere gli unici, avere quella tecnologia che non esistesse da nessuna parte, era la prima volta che le olimpiadi facevano i fotografi, i 10.000 tedofori che portavano la fiamma olimpica, siamo arrivati lì, abbiamo lavorato i primi mesi e dopo un po' cominciamo a parlare con tutti il team che lavorava lì, la metà erano americani ma comunque era un team estremamente internazionale, scopriamo che in tanti altri facevano esattamente la cosa che avevamo fatto noi, pensavamo di essere gli unici, gli unici non eravamo e gli abbiamo chiesto ma perché lavorate con noi? E loro hanno detto perché nessun altro ci ha proposto il progetto in questo modo, si è proposto in questo modo, ci ha raccontato il mondo che stavate vedendo voi, loro avevano una tecnologia, voi ci avete raccontato un'esperienza, ci avete regalato un'esperienza, ogni giorno ci presentate qualcosa di nuovo e da lì abbiamo cominciato a lavorare con loro nonostante avessimo competitor americani che costavano molto meno, avevano magari una tecnologia molto più avanzata ma non riuscivano a dargli l'unicità, non riuscivano a dargli quella cosa costantemente nuova la ricerca dell'esperienza unica e questo secondo me è una cosa che andrebbe ricercata perché il fatto di renderti unico fa sì che poi dopo si hai dei competitor, ma se tu sai offrire qualcosa di nuovo e sai contraddistinguerti ovviamente questo fa sì che questa pressione magari sia anche vissuta in modo un po' diverso. Questo è molto bello, tra l'altro mi viene in mente che si collega di nuovo ai propri valori, nel senso che i valori sono anche un po' la benzina della passione in un certo senso, è chiaro che se sei fedele ai tuoi valori e stai facendo qualcosa ad alto impatto è più facile che ci sia passione che non altrimenti e la passione ti aiuta anche a diventare unico nel modo in cui ti proponi perché questa è una cosa che capita per esempio quando parlo di questo show Impact Girl che non è nel primo o nell'ultimo di questo genere, non c'è molto in Italia devo dire, però fuori è pieno e però è la modalità con cui viene presentata e questa passione che io neanche mi accorgo di avere per quella che è la mission che sta dietro questo progetto e devo ammettere che quando mi viene detto mi sorprendo ogni volta perché è quasi e non è una cosa a cui penso, non l'ho messa nel business plan e ho detto però si percepisce, te lo posso assicurare, quindi questa cosa è veramente veramente molto bella. Senti Sara ti chiedo quale donna pensi dovrei intervistare dopo di te per quale motivo o quali donne? Guarda te ne voglio dire due, io non sono mai nella mia amatissima Bologna, vivo in aereo però in realtà in questa città penso che ci siano dei grandi tesori e voglio raccontarti di due donne che sono due imprenditrici e si trovano in due situazioni molto diverse e io le ho conosciute grazie al gruppo dei giovani imprenditori che oggi non riesco più a frequentare, innanzitutto perché tra un anno non sono più giovane nemmeno io e non posso più essere parte di questo gruppo, ma a parte quello perché in realtà io che non vengo da una famiglia di imprenditori e con mio marito siamo imprenditori di primissima generazione proprio, ci siamo trovati a un certo punto accolti all'interno di questo contesto, abbiamo scoperto che avere un'impresa voleva dire essere un imprenditore nell'era che non era l'era delle start up ma facevi una cosa e avevi creato una piccola azienda ma abbiamo vissuto questa evoluzione del concetto dell'imprenditore e in questa esperienza ho conosciuto due altri imprenditrici, una è figlia di un grande imprenditore e oggi si trova con la responsabilità di portare avanti un'impresa creata dal nonno, un'impresa meravigliosa dove lei sta cercando di portare avanti dei valori, lei è giovanissima ma la vedo con una grandissima responsabilità in mano e lei è Valentina Marchesini, l'altra invece è un'imprenditrice di prima generazione come me, bravissima, coltissima, preparatissima, tostissima ed è stata la presidente dei giovani imprenditori fino a poco fa e si chiama Enrica Gentile e sono secondo me due esempi di imprenditrici che si trovano in questa stessa era ad avere delle sfide molto differenti da affrontare perché una ha un patrimonio di una storia da portare avanti, un'impresa meravigliosa da mantenere e da far crescere l'altra invece ha creato un'impresa bellissima, di grandissimo valore che lavora con grandi imprese, con istituzioni, con governi e ha portato un'intelligenza sopraffina all'interno di un settore che tra l'altro è quello nel quale anch'io sono che è il settore del food quindi secondo me sono due donne che meriterebbero di essere incontrate, intervistate e possono diventare esempio per tanti altri giovani. Grazie per gli spunti di ispirazione Sara. A proposito di ispirazione, dove possiamo trovarti e seguirti? Potete trovarmi su Twitter, nel mio account Saroversi, potete trovarmi su Nova24 dove ho il mio blog e puoi seguire Future Food Institute perché attraverso i canali di Future Food Institute raccontiamo tutte le nostre attività, in particolar modo il progetto che da qui ai prossimi cinque anni ci porterà in giro per il mondo accanto alla FAO a proprio parlare dell'impatto del food sul tema del climate change, come le nostre abitudini alimentari possono creare un impatto enorme sul contesto che ci circonda. Fantastico, più alto impatto di così non credo si possa. Sara, ti ringrazio davvero tanto. È stato bellissimo, tra l'altro sai che è un tema, come ti ho detto all'inizio, questo dei piccoli giganti a cui tengo moltissimo e mi è piaciuto molto approfondirlo, tra l'altro portandone alla luce aspetti e angolazioni che di solito sono molto controversi perché non sono compresi. Grazie mille a te, è stata una bellissima esperienza, fermarsi per raccontare, ripercorrere qualche passo del passato. Tra un aereo e l'altro ce l'abbiamo fatta. Ringrazio anche le ragazze che sono in ascolto a cui ricordo che come sempre se state guardando o ascoltando la puntata dal sito viz-academy.it slash podcast troverete tutta la puntata suddivisa minuto per minuto in maniera tale che possiate scorrere direttamente alla parte che più vi interessa ripassare. Vi ricordo inoltre che c'è sempre uno spazio dedicato ai commenti sempre nella stessa pagina, quindi mi raccomando condividete l'idea che vi ha colpito di più, anche perché se ascoltiamo senza mai mettere in pratica, non smetto mai di ripeterlo, non serve a niente. E con questo ragazze vi saluto e ci sentiamo alla prossima puntata di Impact Girl. Questo è tutto per la puntata di oggi, spero di averti dato qualche utile spunto che potrai implementare sin da subito. Se crescere un business in cui credi sul web in modo autentico e proficuo è parte dei tuoi piani e non sei ancora entrata a Biz Academy, puoi farlo visitando il sito biz-academy.it. Noi come sempre ci sentiamo o vediamo alla prossima puntata di Impact Girl. Grazie. 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 Grazie.